Previsioni meteo per mercoledì primo aprile. Al nord si rinnovano condizioni di bel tempo prevalente con cieli sereni o al più velati, locali fenomeni sui rilievi del Triveneto. Al centro da poco a parzialmente nuvoloso con annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, locali acquazzoni o temporali. In serata peggiora sulle Adriatiche. Al sud variabile sulle Tirreniche con possibilità di qualche locale fenomeno tra interne campane e Calabria Tirrenica. Venti sino attesi tra nord ovest e sud est. Mari agitati i canali da mossi a molto mossi altrove. Temperature per lo più stazionarie.